Siamo sempre salendo E siamo adesso nell'area protetta dell'UNESCO Perché come forse lo sapete già Il fior di Gerangel è stato scritto nel 2006 Sulla lista dei posti naturali dell'UNESCO Perché è uno dei più belli del mondo Insieme a quello che si chiama Nero Shord Che è un po' più al sud da qui Guardate quello che meraviglia Che rocce Vedete queste casette di legno piccole? Vivono? Vivono persone? Non c'è nessuno che ci vive ovviamente Troppo piccolo Neanche un bagno c'è Ma se non capite dovessi trovare della sabbia Per quei primi giorni della stagione Quando la strada è aperta Uuuuh è ghiacciata l'acqua È ghiacciata Il secondo lago Che bellissimo oggi perché È semi ghiacciato ma si vedono anche i riflessi della montagna Che meraviglia ragazzi Ci fermeremo dall'altro lato Un prodotto Guardate il colore dell'acqua Che è blu Azzurro Si vede molto bene vicino Al fianco della strada Che meraviglia Tutto questo bianco Vuolete indovinare l'altitudine in quale siamo qui? 1200 800 Esattamente in mezzo 1030 metri 1030 Lago 1030 metri Guardate Guardate Guarda va Mamma mia Sembra una navicella Sì Allora sembra un paesaggio Qui si vedrà andando su Un paesaggio lunare A un punto di 1500 metri Dove